Su Google Pay puoi valutare e recensire applicazioni, giochi per Android e altri contenuti. In questo tutorial ti mostreremo come lasciare recensioni dal tuo smartphone e dalla versione desktop del tuo computer. Tieni presente che puoi valutare solo le app che hai installato. Le app scaricate vengono automaticamente collegate al tuo account Google. Se hai scaricato un'app ma non riesci a scrivere una recensione, assicurati di aver effettuato il login con l'account giusto. Apri Google Play sul tuo telefono o tablet Android. Se vuoi lasciare una recensione dal computer vai su play.google.com. Trova l'applicazione scansionando il codice QR sullo schermo o digitando il nome della barra di ricerca. Vai alla pagina dei dettagli. Per valutare l'applicazione seleziona il numero di stelle nella sezione Rate this app. Per lasciare una recensione clicca su Write a review below the store rating. Condividi la tua opinione seguendo le istruzioni sullo schermo. Clicca su Post. Per eliminare o modificare una recensione, trova la tua recensione nella pagina dei dettagli dell'app. Clicca su Edit, Review o Delete. Se hai scelto Edit, modifica la recensione e clicca su Post. Tieni presente che le recensioni su Google Play sono collegate al tuo account Google e sono visibili a tutti sul web. Il nostro team apprezzerebbe molto una recensione positiva su Smart Wallet. Il nostro team apprezzerebbe molto buono.